Da un bizzarro cerchio nel grano e uno squalo tigre che si avvicina lentamente a un nuotatore, fino a un camion che è stato inghiottito da un inghiottitoio e alcune balene affanoni davvero carine. Arriviamo a un castello di cotone e all'isola perduta di Taha. Ecco la nostra lista dei migliori 13 video catturati dai droni che hanno sconvolto tutti. Numero 13 Bizzarro cerchio nel grano I cerchi nel grano sono famosi da un po' di tempo, specialmente negli Stati Uniti. Appaiono casualmente e la maggior parte delle volte nessuno sa il motivo. Alieni, scherzi, società segrete, le teorie sono numerose. Ma è molto raro che un cerchio nel grano appaia vicino ad una piccola città casuale in Germania dal nulla. Comunque ha fornito delle incredibili riprese con il drone, un cerchio perfetto con quello che sembra uno shuriken al centro e cerchi concentrici verso il centro. Ma ciò che mi stupisce di più è come è stato fatto. Insomma, non deve essere stata una passeggiata a renderlo simmetrico e impeccabile. Numero 12 Squalo tigre che si avvicina a un nuotatore Gli oceani sono la casa della vita marina e non dovremo interferire con essa. Ecco perché questo è un video registrato con un drone di uno squalo tigre che si avvicina lentamente a un nuotatore presso la spiaggia di Hilary's Dog, vicino a Perth, nell'Australia occidentale. Lo squalo si muove lentamente, senza addestare sospetti, e poi si lancia improvvisamente verso la donna ignara. E non era nemmeno lontana dalla riva, solo a pochi passi. Ma anche quello è il territorio del predatore. Per fortuna lo squalo ha deciso di non attaccare. È stata solo fortuna. Numero 11 Camion inghiottito da una voragine I sinkhole non sono così rari e alcuni di essi sono divertenti e belli. Ma molti sinkhole causano danni massicci e provocano incidenti. Diversi sinkhole sono apparsi casualmente su una strada asfaltata. Non ai lati, non nei boschi vicini, ma proprio al centro della strada. E mentre il drone segue lentamente i buchi, possiamo vedere questo gigantesco camion che è stato inghiottito da un sinkhole e intrappolato. Dio solo sa quanto tempo ci vorrà per tirare fuori il veicolo e poi riparare la strada. Come tutti sappiamo, le riparazioni stradali durano sempre almeno tre volte più a lungo del previsto. Numero 10 Lago a forma di cuore Dopo il camion caduto, è ora di guardare a qualcosa di romantico e commovente. Questo è il Lago dell'amore in Irlanda. No, non è incantato né abitato da elfi. Beh, forse non è davvero magico, ma sembra magico. È stato chiamato Lago dell'amore a causa della sua forma. Alla forma di un cuore, non un cuore umano, ma quello che insegniamo ai bambini a disegnare. È la location perfetta per una passeggiata di San Valentino con il partner. Sembra affascinante sia da terra che visto dalle riprese di un drone. Numero 9 Baleni amichevoli Abbiamo tutti visto quanto siano amichevoli i delfini e vorremmo tutti nuotare con queste magnifiche creature. Ma sapevate che anche le baleni, i più grandi esseri viventi, sono amichevoli? Ecco incredibili riprese di alcune balene gioiose che nuotano intorno ad una barca. Sono incuriosite dalla cosa e dalle persone a bordo. Questi intelligenti animali amano mostrare la loro coreografia e la loro forza, girando intorno e sbattendo delicatamente sulla barca. Non importa nemmeno l'uomo che fa immersioni. Le balene amano giocare con gli umani piccoli. Forse non è facile notare con loro come con i delfini, ma sicuramente è un'esperienza divertente. Numero 8 Soffio maestoso Ora, questo sembra un filmato catturato direttamente dalla fucina di Efesto. Sembra irreale, come il principale cattivo che si forma all'inizio di un film di supereroi. Non saremmo stati in grado di avere un tale filmato se non fosse stato per i droni. Nessuno sarebbe abbastanza folle da prendere un elicottero e volare sopra il cratere di un vulcano. Non solo c'è il rischio di cadere, ma i fumi potrebbero essere ancora più pericolosi. Tuttavia, questo video di lava bollente è ipnotizzante. Si trova in Islanda e mostra il contrasto di questo bellissimo paese. E per coloro che sono più curiosi, questo è il vulcano Fraga Dalsfjall. O almeno così credo che si pronunci. Numero 7. Chiesa antica più alta. Quando Jimmy Page e Robert Plant delle Zeppelin scrissero Stairway to Heaven, probabilmente non sapevano che qualcosa del genere esistesse nella vita reale. Questo è il pilastro di Katsky, la chiesa antica più alta. Un monolite di calcare risalente al XIII secolo, ma utilizzato da molto tempo prima. Se fossero stati abbastanza stravaganti da arrampicarsi e costruire sulla pietra, o se l'intera collina intorno fosse crollata, è ancora sconosciuto. Ma è sicuramente una delle viste e delle posizioni più incredibili da visitare al mondo. L'erosione ha fatto il suo lavoro e la masseccia pietra appare consumata dal tempo. Mi chiedo quanti anni ancora passeranno prima che crolli completamente. Numero 6. Castello di Cotone. C'è una piccola città, Pamukkane, in Turchia, che è meglio conosciuta come il Castello di Cotone. Questa splendida località turistica ha catturato l'interesse di molte persone perché l'intero paesaggio sembra fatto di cotone. Possiamo ammirare la vista mozzafiato offerta da un drone, una bianchezza che si estende fin dove può arrivare lo sguardo. È ipnotizzante. Si tratta di una meraviglia naturale che oltre 2 milioni di persone visitano ogni anno. Il Castello di Cotone è pieno di sorgenti termali a causa dei depositi di calcare che si sono accumulati nel corso di millenni. Oltre ad essere un sito del patrimonio mondiale dell'UNESCO, queste sorgenti sono anche conosciute per le loro proprietà curative. Numero 5. Isola perduta di Taha. Due isole sorelle condividevano la stessa laguna, Taha e Raiatea. Finché una gigantesca anguilla affamata divorò la terra di collegamento e Taha fu persa per sempre. Almeno così racconta la leggenda. Ma è curioso come Taha o l'isola della Vaniglia sia accessibile solo da Raiatea in barca. Forse è meglio così perché poche persone conoscono questa tranquilla e silenziosa isola, ed è un luogo meraviglioso per riposarsi. Come possiamo vedere dalle riprese, c'è una natura splendida e una straordinaria architettura su quest'isola, e ovviamente i baccelli di vaniglia. L'intera isola profuma di vaniglia e si dice che si possa gustare l'aria. Numero 4. Cascata ghiacciata. Quando una cascata si congela, dovrebbe essere chiamata ancora una cascata, perché l'acqua non cade più. Forse il nome più appropriato è Acquaferma. Comunque qualsiasi ripresa sulla neve è affascinante, e possiamo ammirare il meraviglioso paesaggio di Latourel Falls. Un'opportunità rara per catturare qualcosa di così unico e bellissimo. L'acqua scende lentamente e si congela e si scongela costantemente a causa del freddo. Sembra un punto di riferimento da videogioco, in cui inizia una missione chiave. E come possiamo vedere alla fine del video, c'è una divertente perla comica, poiché l'operatore del drone era goffo. Numero 3. Fenicotteri rosa. I fenicotteri sembrano irreali. Insomma, questi uccelli sono così strani e così rosa, che sembrano ciò che un bambino descriverebbe come una specie di uccello di cui ha sognato. Uccelli slanciati e rosa che si posano su una gamba sola. Non ci credi finché non lo vedi. Ed ecco alcune rare riprese da un drone nello Yucatan, in Messico. Un branco di fenicotteri cammina in sincronia e tutti si alzano in volo contemporaneamente, formando una formazione aerodinamica. Il drone li segue, facendovi desiderare di librarvi in volo come un uccello, almeno per un giorno. Numero 2. Nido di falco in cima ad un albero. Una vista dall'alto all'interno di un nido di uccello in cima ad un alto albero. Non è qualcosa di sorprendente. Questo è un nido di falco pescatori. I falchi pescatori sono bellissimi uccelli predatori con gli occhi gialli. Ed è ovvio che il drone non ha disturbato il magnifico uccello che si rilassa indisturbato. Potrebbe essere una madre che sta covando qualche uovo. Fate tornare il pilota del drone quando si schiudono. Qualunque sia il caso, l'uccello si sta rilassando e godendo il paesaggio, senza alcuna preoccupazione al mondo. Numero 1. Base militare segreta. Sembra un giocattolo in miniatura, ma è solo ripreso dall'alto. Centinaia e centinaia di veicoli militari, perfettamente disposti per qualcosa nel deserto. Ma non preoccupatevi, perché si tratta di qualcosa di positivo. Le riprese di una massiccia parte delle forze armate americane, pronte a ritirarsi dall'Iraq alcuni anni fa. Immaginatevi il numero di persone che sono state collocate lì per operare questi veicoli. Veramente sorprendente. Ma come e perché è stata scattata questa foto di una base militare segreta? Potrebbe essere stata parte di un'operazione di spionaggio? Dubito fortemente che i funzionari americani volessero o che le persone conoscessero la loro esatta posizione e formazione. Eccoci arrivati in fondo alla lista. Avete trovato qualcosa di scioccante? O forse c'è un'immagine che vi ha colpito di più? Ditecelo nei commenti. Grazie a tutti.